Apre le danze Laezza sugli sviluppi di un calcio d'angolo decisiva, tuttavia, è la deviazione di De Francesco. Nel finale, gli Amaranto riaprono il match grazie a questa zampata di Laezza. Al cinquantesimo però il vantaggio arriva. Corner di Gammone, Laezza di testa batte tutti per il 2-1 del Leonzio.